Io arrivo da una carriera, così si chiamava una volta, di costruzione, di idraulica, mi sono poi specializzata in piscine, ho scoperto le terme, ho aperto le terme, poi ho scoperto che esisteva una argilla biocurativa in profondità in queste terme e ho scoperto che con questa argilla si poteva fare le terme ovunque, e quindi la casa della salute ovunque. Credo che l'ecovillaggio per essere ecosostenibile deve essere anche salutare ed indipendente, non deve avere mai problemi di salute, perché sennò devi di nuovo rivolgerti al sistema comunque. Questa scoperta che potete immaginare è stata anche difficile da dover sia autorizzare che diffondere, mi hanno anche offerto soldi per non dirlo, quindi ho capito che era importante per quello, permette a tutti di avere la medicina in tempo reale a casa, con un elemento naturale, o comunque intensificare la produzione nutriceutica, che qualcuno magari lo fa, o intensificare la produzione bio naturale. La pianta senza stress produce molto più velocemente. Abbiamo trattato animali, abbiamo trattato esseri umani, abbiamo trattato anche le piante, abbiamo provato con piante che non facevano più frutti da anni, hanno ripreso a far frutti, semi che erano abituati a OGM e sono ritornati di nuovo a far semi autoriproduttivi, quindi diciamo che è una buona via per fare la partenza. Tutti hanno bisogno di acqua, come diceva prima, come risorsa, magari c'è in un posto, in un terreno, però non è biologicamente pura, andrebbe filtrata, andrebbe trattata, non è più vivace o viva, come piace dire a me, perché ha perso le sue risorse, è stata contaminata precedentemente. Questo ingrediente che fa parte di EIRA Project, di Eterme EIRA, che sono di Eno Castello Imperio, però io sono qua per dire a voi, mi metto a disposizione per farle a casa vostra, quindi ovunque volete farle, anche in Jamaica mi piace quello di Eno. Se vi interessa, io domani sono a disposizione con tutte le domande, anche oggi quando mi incontrate, per darvi chiarezza. e non avrete più bisogno, già non ne avete, però, perché siete tutti tranquilli, non avete più bisogno di medicina, soprattutto potete recuperare, ok? Gli altri, scusami, grazie mille.